Ciao, sono Fabietto e questa è la quarta parte del tutorial su come puoi realizzare una scenografia per il musical Tarzan. In questa parte vediamo come fare la casa sull'albero. Per fare la casa sull'albero decidiamo di usare un trabatello a nostra disposizione. La casa sull'albero sarà un elemento scenografico double face, cioè da una parte giungla, dall'altra parte casa sull'albero. E sarà mosso da due scenografi macchinisti che stanno nascosti all'interno del trabatello per tutta la durata dello spettacolo. Decidiamo la forma del trabatello e prendiamo le misure. Rivesti tutto il trabatello di stoffe nere. Rivesti il retro del trabatello, cioè la parte chiusa, la parte che deve essere giungla, con stoffa verde e liane come il resto del fondale. Poi rivesti il davanti del trabatello, cioè la parte che deve stare aperta e praticabile, con delle canne di bambù e della rete. Per tagliare a misura i vari pezzi di cannunciato di bambù usa il seghetto circolare a mano. Per fissare stoffe nere, canne di bambù e pezzi di rete, usa fascette lunghe di plastica e taglia le sporgenze con le tenaglie. Ricordati di lasciare un ingresso per poter entrare sotto il trabatello. Puoi tagliare un pezzo di cannunciato come se fosse una porticina. Questo è il risultato della casa sull'albero finita.